Organizzato dal Comitato per la Qualità della Vita di Taranto, si è tenuto oggi nel Salone di Rappresentanza della provincia in via Anfiteatro il convegno dall'Unità d'Italia alla Costituente, al quale è intervenuto il senatore Giorgio De Giuseppe che ha detto oggi Taranto celebra tre grandi personaggi Giuseppe Pisanelli, sua nipote Giuseppe Codacci Pisanelli e Aldo Moro, i quali pur essendo vissuti in periodi diversi hanno lasciato il segno per il rispettivo impegno politico, al quale non arrivarono per caso ma dopo studi severi approfondimenti personali e il loro tentativo di capire quali erano i problemi della società che avrebbero dovuto servire. Oggi Taranto ricorda tre personalità. Giuseppe Pisanelli fu il primo parlamentare eletto a Taranto nella Camera dei Deputati subito dopo le note vicende della Costituzione del Regno d'Italia. Giuseppe Codacci Pisanelli, nipote di Giuseppe Pisanelli, fu un parlamentare che si dedicò con particolare attenzione ai problemi di Taranto. Aldo Moro venne qui dopo esser nato a Maglie e vi trascorse tutta la parte formativa della sua esistenza da quando aveva quattro anni a quando concluse brillantemente gli studi presso il liceo Archita ottenendo in quell'epoca la votazione altissima in tutte le materie e un dieci in matematica e fisica. che cosa hanno oggi in comune questi personaggi che non sono nati a Taranto ma a Taranto hanno per l'una o per l'altra ragione realizzato tanta parte della propria esistenza. Ci parlano della politica come della più seria attività che l'uomo possa svolgere. Il Concilio Vaticano II dice che la politica è l'arte del volontariato più complessa e più difficile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.